La prima notizia da dare è questa. Ricordiamo sempre che in Campania abbiamo 15.000 dipendenti in meno e tutto quello che si fa per l'epidemia Covid viene fatta avendo un apparato di 15.000 dipendenti in meno rispetto all'Emilia Romagna, al Veneto, la metà dei dipendenti che ha la Lombardia. Lo dico questo per rendere onore a migliaia di nostri dipendenti della sanità pubblica che stanno dando una prova straordinaria di impegno. Secondo, ovviamente c'è un dato importante per noi, abbiamo il dato più basso di occupazione delle terapie intensive in base alla popolazione e il dato più basso di decessi Covid. Poi a Caserta, siamo qui, abbiamo una percentuale di utilizzazione dei vaccini che è la più alta della regione, oltre il 92-94%, quindi questo ci dà fiducia, ma ovviamente il problema è avere i vaccini. Ad oggi, mentre io le sto parlando, la Campania ha ancora 207.000 vaccini in meno rispetto alla popolazione. È uno scandalo nazionale di cui non si parla e la ringrazio perché mi consente di comunicare ai nostri concittadini che ancora oggi, incredibilmente, nella regione a più alta densità abitativa d'Italia, sottraggono a 207.000 cittadini campani il vaccino a cui hanno diritto.